Rido come una gallina, aforismi e altra dalla Contessa Ginevra. Buongiorno Contessa, come sta? Mi scusi se la disturbo, ma ho bisogno di una consulenza. Vede, la sua umile parrucchiera si ritrova con in casa un aspirapolvere costruito con materiali che arrivano dalla NASA, così mi è stato detto. E adesso indosso un leggings con materiale che usano gli astronauti sulle navicelle spaziali. Con queste informazioni, ma secondo lei io posso farmi un viaggio su qualche pianeta o posso semplicemente andare a ciappare dei ratti e farmi un po' più furba? Ma cara Stefi, questa adorabile signora, così dolce, così morbida, così solare! Ma quante cose sa lei, a chi è tua, a prendere delle cose dalla NASA? Ma altro che, io le consiglierei anche di prendere dei passeri, non solo dei ratti, lei mi intende, vero? Ma Laura Gioia! Ma è ancora seduta sulla panchina? Ma quanto è lungo questo giornale da leggere! Ma sa che lei ha la sindrome del pensionato? Ma voglio dire, sempre su questa panchina, o cambia panchina, o comunque una panchina, sempre panchina, eh? Carissima! Ma dai va, ma che balenghe! Ma mi fanno troppo ridere in una giornata così uggiosa! FANTASTICO! BUZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ. aaaaaa Sì